Emergenza chiama emergenza, così come se non bastassero le criticità in corso, nei prossimi giorni ad aggravare il fardello arriveranno le scadenze legate al super bonus 110%, un tema che rischia di mettere in ginocchio proprietari, famiglie e imprese. La capogruppo in regione del PD, Michela Fanelli, chiede un intervento regionale che attraverso la conferenza delle regioni possa incidere sulle scelte del governo nazionale. Può essere attento e sollecitare rispetto a un panorama nazionale governo che nell'attuale formazione e in quella futura deve rilanciare lo strumento anche per tutto il 2023 per le villette, le case unifamiliari, adeguando il termine a quello dei condomini. E poi abbiamo un altro termine che purtroppo sta scadendo il 30 settembre per completare il 30% dei lavori complessivi. Questo è un termine purtroppo molto stringente, spesso non rispettabile da chi compie i lavori perché i materiali non ci sono, gli ordini vanno a rilento. E quindi senza colpe per chi ha attivato il 30%, il super bonus al 30%, oggi si ritrovano a non rispettare, a perdere l'intero beneficio. Non va bene. Sul fronte caldo, quello dell'energia e del caro Bollette, Fanelli attende che l'Assemblea si riunisca il prossimo 27 settembre e adotti provvedimenti urgenti e utili e soprattutto stanzi, risorse congrue per affrontare la crisi. Ho presentato una mozione perché la Regione non è vero che non può fare nulla. La Regione può attivare alcuni fondi, come ha fatto con il Covid, per aiutare le famiglie. Sollecichiamo gli interventi nazionali per le imprese, in particolare quelle particolarmente energivore. Ci potrebbe essere una crisi economica mai vista prima. E voglio anche fare altri esempi. Il costo del Pellet, nelle nostre case, soprattutto quelle di media collina, di montagna, le stufe e il riscaldamento a Pellet sono estremamente diffusi. Se triplica quel costo è un problema enorme per le famiglie. Si fa per speculazione, si fa perché la materia prima non si trova, ma bisogna statuire un controllo più severo e bisogna chiedere a Roma di abbattere l'IVA.